buongiorno buongiorno e buon venerdì 28 gennaio ieri una giornata molto calda una giornata molto pepata ieri attivando la campanella vi sono arrivate le notifiche dei nostri video dei miei video ieri Carlo Laudisa ci ha rivelato il retroscena perché Vlaovic non è andato né al Milan né all'Inter poi ieri sera notizie vere vere fondate informate verificate sul possibile trasferimento di Kulusevski al Milan e poi ne parliamo e mi auguro che questo video abbia il vostro like perché stasera parliamo anche del futuro e iscrivetevi al canale youtube di Carlo Pelegati che parla di presente e passato ma soprattutto futuro e voglio parlare prima di ieri del futuro un futuro non prossimo ma quando abbiamo un nome anche della prossima campagna rafforzamento del Milan futuro noi ne vogliamo parlare e poi parleremo di Kulusevski delle condizioni di Kessy delle condizioni di Ibrahimovic della possibilità che Tiav arrivi o no al Milan tutto questo quindi in questo video ricco ricco di temi ma partiamo dal possibile futuro acquisto del Milan un giocatore di grande talento che rafforzerebbe la squadra rossonera parliamo di Noah Lang giocatore olandese nato nell'Ajax è stato prestato al Bruges poi è tornato all'Ajax e poi il Bruges nell'estate scorsa l'ha comprato per qualcuno dice 6 qualcuno dice 8 milioni di euro le notizie che arrivano parlano di un interessamento ma c'erano già state nello scorso ottobre dei colleghi molto attenti l'avevano già rivelato perché sono andato a vedere le connessioni Lang Milan ma la novità è che sembra che la gente continua a avere dei contatti stretti stretti con il Milan attenzione qualcuno mi potrebbe dire e ma Lang è un'ala sinistra occupatissimo quel ruolo da Leao e da Rebic vero con l'allenatore Clement ha giocato quasi sempre sulla fascia sinistra ma lui è un piede destro che può giocare anche a destra infatti qualcuno non lo sa mi informo io l'allenatore Clement che è andato ha lasciato il club del Bruges il 3 gennaio oggi c'è un altro c'è un olandese Schroeder che per esempio nella partita di ieri ieri il Bruges ha giocato col col Saint-Chillois che è in testa della classifica 54 1 45 l'altro ebbene è stato schierato nei 5 1 2 3 4 5 secondo quindi mezzala ma a destra perché il giocatore può giocare anche a destra anche se tutti pensano che sia solo una alla sinistra ma avendo il piede destro può giocare è un giocatore che si può certamente e infatti oggi l'hanno messo sulla dalla parte destra dei 5 voluti dall'allenatore Schroeder da poco dal 3 gennaio allenatore del Bruges quindi chi dice no ma a sinistra non serve attenzione perché al Milan lo pensano anche a destra cross signori il giocatore ha in 37 partite ha segnato 17 gole 11 assist è un grande giocatore è del 99 a giugno compirà 23 anni un giocatore interessante un giocatore valore 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 sostenibile perché quando io vedo il tetto per gli acquisti del Milan quando supero superano abbondantemente il 30 io incomincio a nicchiare ma questo giocatore dovrebbe avere il valore circa di 25 milioni di euro e il Milan potenzierebbe la fascia destra potrebbe giocare anche a sinistra e può anche giocare come seconda punta magari basta andare a vedere andare a studiare un po le sue caratteristiche anche dietro nel 4 2 3 1 come centrale quindi un giocatore direi universale spesso impiegato quasi sempre a sinistra ma anche a destra può giocare e al Milan piace tanto si dice che il procuratore ripeto il procuratore e il Milan abbiano contatti continui e potrebbe essere anche il il colpo dell'estate signori io sogno poi andiamo poi uno mi dirà senti giugno c'è ci sono le messi adesso ci sono ancora i semini ancora nella terra gelata avete ragione avete ragione con questa metafora cara all'agricoltura con questo paragone è vero i semini sono ancora là ma poi crescono crescono anche gli accordi crescono anche le trattative e io mi immagino già scusate benedò 9 su 11 megnan calabria florenzi tomori botman teo hernandez tonali renato sanchez con lang magari li con adli con leao e la davanti bisogna vedere se giru se ibra o quale attaccante magari un grande lazetic magari attenzione ma non ho inventato una formazione tanto per dire ci sta botman piace renato sanchez piace molto molto e lang sembra che ci siano sempre dei contatti tra la gente e il Milan adli è già cosa del milan ma stiamo a quello che è successo ieri Kulusevski certamente ci sono stati dei contatti probabilmente nati dalla gente Alessandro Lucci ma quando ieri subito fuochi artificiali ecco Kulusevski no Kulusevski non andiamo a tirare la riga non andiamo a raccontare tante storie Kulusevski non verrà al Milan non verrà al Milan da Torino quello che ho saputo io perché la Juventus non ha nessuna intenzione di prestare un giocatore in Italia preferirebbe prestarlo se dovesse all'estero la Juventus vuole prestare eventualmente il giocatore ma con l'obbligo cioè con la certezza di averlo praticamente venduto al Milan ieri Rai Sport ha citato queste queste cifre che mi risultano assolutamente vere la Juventus avrebbe chiesto avrebbe dato il Milan in prestito il giocatore con un prestito oneroso di 3 milioni e un riscatto di 40 milioni il Milan ovviamente sono prezzi che non interessano al Milan e in effetti Kulusevski dunque almeno a meno che ma non credo può essere la Juventus all'ultimo giorno ci dia in prestito magari con un piccolo onere e poi senza obblighi di riscatto Kulusevski al Milan potrebbe interessare ma siamo nel così nel nel fantasy land poi vedremo come si svilupperà il Milan 3 milioni più 40 non li dà per Kulusevski anche perché sono sono cifre che esulano dai così dalla diciamo così dalla filosofia dalle strategie del Milan quindi scusate a questa situazione 3 più 40 il Milan no e quindi Kulusevski non verrà a meno che la Juventus cambi completamente filosofia nella media di Kulusevski ma ci sono anche buone notizie che riguardano Frank che sì allora innanzitutto le condizioni fisiche il Milan ha comunicato dagli esami nulla di rilevante solamente una contusione il giocatore quando rientrerà sta bene recupererà presto quindi si tratta solo di un problema a livello contusivo niente di rotto niente di drammatico e questa è la bella notizia perché il ragazzo si candida la numero 10 nel derby la e lo vedremo spesso la numero 10 immagino già un tonali benasser che sì meraviglioso meraviglioso qualcuno però si è domandato ma come mai benasser torna immediatamente parte alla fine della partita che ha perso proprio con la Costa d'Avorio l'Algeria eliminata arriva il giorno non dico neanche 24 ore dopo già a Milano e perché invece Frank che si tornerà nel fine settimana ci hanno detto poi ieri domenica sera presto detto la Costa d'Avorio la nazionale della Costa d'Avorio ha le sue abitudini e l'abbiamo già notato perché arrivava sempre per ultimo che sì quando la Costa d'Avorio è stata eliminata i dettami l'organizzazione della Costa d'Avorio prevede che i giocatori tornino tutti insieme nella capitale ivoriana e poi da lì ovviamente partono e tornano a casa quindi tornano scusate e tornano nelle rispettive squadre a casa loro a livello di maglia di club quindi nessuna sorpresa la Costa d'Avorio è stata eliminata il giocatore domenica sera sarà qua lunedì riprenderà gli allenamenti perché potrebbe aver già smaltito il problema al costato quindi buone notizie perché sì ma torniamo sul mercato ma il mercato del Milan è finito il mercato del Milan sembra proprio finito ma c'è sempre un ma qual è il ma? innanzitutto il ma è che lo Schalke 04 scenda da 8-10 a 5-6 per Malek Tiav innanzitutto al Milan non contano molto che ci sia questo avvicinamento cioè che la squadra renana Schalke di Gelsenkirchen non lontano da Düsseldorf venga a miti diciamo così pretese e scenda la richiesta e quindi escludono mi dicono il mercato è già finito ma attenzione perché negli ultimi giorni potrebbero esserci delle sorprese delle offerte per giocatori che possono interessare il Milan non prende tanto per prendere non prende tanto per prendere se ci fosse un giocatore magari sulla fascia destra potrebbe anche prevedere di prenderlo ma non diamo già uscito Castiglieco l'uscita di Castiglieco che ieri si pensava abbastanza imminente soprattutto al Valencia abbiamo sempre detto che lui preferisce le squadre spagnole sembrava il Valencia in prestito ma attenzione perché ho verificato le mie fonti dicono attenzione non siamo così vicini è ancora complicata la cessione del buon Castiglieco in Spagna a maggior ragione in questo senso difficile che se ci fosse anche Castiglieco il Milan accetti poi ripeto potrebbero esserci delle occasioni per giocatori alla Lazic di talento che possono eventualmente crescere in questi sei mesi e il Milan non è contrario a nulla ma se dovessi scommettere qualcosa sul fatto che il mercato sia concluso l'impressione è che il mercato sia concluso è un'impressione però a quattro giorni dalla fine del mercato quindi sono cauto mentre vi dico Kuluseschi no e se vi dico Kuluseschi no e Kuluseschi no anche lì a meno che rivoluzione all'ultimo giorno quindi dovrebbe essere così il mercato che a gennaio ha visto la Zetich almeno fino adesso il telefono però non è che Richi Massara e Paolo Maldini sono partiti per i fiordi per vedere i fiordi d'inverno e quindi il telefono è staccato perché là in mezzo i fiordi non prendono sono in casa Milan quarto piano il telefono è lì ci fosse una richiesta o un'offerta importante potrebbero prenderla in considerazione Madea un altro nome Esteve qualcuno l'ha nominato Esteve Montpellier vi assicuro costa più di Malek Tiav quindi a maggior ragione non è un giocatore che possa interessare oggi al Milan alle quotazioni che il Milan probabilmente ha già controllato e ha già capito che sono quotazioni che esono dai budget e dall'intenzione dei dirigenti del Milan che sono sempre al quarto piano non sono a vedere i fiordi